Ciao a tutti, benvenuti su Anita Stories, io sono Anita e io Vitala e oggi ci avete chiesto in tantissimi di vedere i video in cui le macchine schiacciano le cose, schiacciano cose, schiacciano slime, schiacciano squishy, ci avete detto che sono bellissimi da vedere anche i suoni che fanno ASMR quindi siamo super curiosi di vederli assieme a voi e poi voi alla fine del video potrete scriverci nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più, quindi qual è la cosa schiacciata che vi è piaciuta di più, quindi tenete bene a mente e poi nei commenti mettete il timestamp così vediamo qual è la cosa che vi piace di più schiacciata, un bel like se volete vedere altre reazioni strane, mettetevi comodi, prete i pop car e il cioccolato allora inizio, oddio ma cosa sono infatti, bat bomb, no ma sono liquide dentro tipo, una mela, oddio, ma fa velocissimo, l'ha fatta in poltiglia proprio, no uovo, cos'era? olive? cos'è questo? uno scioccolato, uno scioccolato, una scioccolato, una scioccolata, no vabbè fighissimo, pasta, ghiaccio, no credo sia foam i gessetti, wow il rumore dei gessetti era pazzesco, ah queste qua sono le spuglie, che figata un'altra spugna di quelle floral, sembra gesto, queste qua sono quelli per la lavastoviglie, per la lavastoviglie, wow, non so perché è così rilassante da vedere anche il suono questi che sono, i bubble, bolle, perché si solidificano, oh qua ci sono degli slime dentro forse che dici? wow, che figata, si sembra era una slime, è rimasta attaccata la roba, una zucca, poverina, caspita questa macchina deve essere gigantesca per schiacciare la zucca, wow, troppo bello questa, lo è vera, no, peccato, è rimasta tutta appiccicata, è carezza, wow, sono esplosi proprio, ma è troppo figo da vedere, caramelle, caramelle, queste le palline che abbiamo visto prima, c'era lo schiuma da barba, tipo ketchup, cos'è questo? ma questo è un salvagenaio, ma non rovina le ruote della macchina, eh infatti, i tacos, wow, super ASMR quelli, si, di nuovo le palline, sempre le stesse palline, forse sono caramelle, cingomme, boh, questo è blu, wow, sono super strane queste cose, si, cosa ci hanno messo dentro? c'era dell'acqua, una bottiglietta, questa esplode forse, eh sì, wow, quelli spaghetti, ma sono chiodi? è congelato, c'è scritto, wow, no, sono spaghetti, ma c'erano proprio qualsiasi cota, questo era un mandarino, ah, questo è qui la gatta, wow, cosa sono, gusci di uomo? no, gesso, wow, palloncino, uh, con l'acqua, la mostarda, no, maionese, ah, 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 ah Horizon Cos'è questo? Carbone, tipo, che era? Questo cos'è? Cioccolato? Nero? No! Ghiaccio! Altri bat bomb Che rilassante Oh, i batteri a cero Che bei suoni! Una birra Wow Una saponetta Era il sapone quello sotto, vero? Che rovelle Cavolo, sono resistenti! Che fatti? Più di ogni altra cosa! Un cetriolo! Aaaaaah Pure il cetriolo adesso Ma perché? Basta! Erano dei cannelloni, tipo, rotti Non lo so Forse è quella specie di schiuma che serve da coibentante Eh? Le bat bomb Mezza sciolte Wow Che bel suono che fa questa spugna Che si scioglie Che corre? Oh, poverina Adesso si rimette in piedi Rincorre la roba Spaghetti Oh, bello in promotion Così si vede bene Wow E' molto rilassante Questa è una spugna E' una spugna Sta mettendo l'acqua per farla No, mi sembra una bat bombo Vedi che si scioglie Sì Ma Perché l'ha fatto sciogliere prima? Ah, perché fa un rumore più sofficio Wow Wow L'ha appiattita Sì Che figata Ancora le uova Dai, no Le uova no Ah, erano vuote Ma è così Comunque mi sto rilassando un sacco Funzionano davvero questi suoni Sono davvero ASMR Oh, che bello le bat bomb Cos'è? Il bustino del ghiaccio No, quelle che si scoppiano Nuovamente la bottiglia d'acqua che esplode Oh Wow Questo è carino La riappita d'acqua Gessi Mi piacciono un sacco i rumori di Gessi Questo l'abbiamo visto prima E' bollicine Cosa sono? Uvecchi Questo non aveva molto senso Cos'era? Ah, era il motore della macchina In effetti come fanno a fare in modo che non si sente il motore della macchina molto? E' quasi sempre Ghiaccio Oh, anche il ghiaccio e il figlio In questo momento Quelle che vanno più di moda sono queste spugne qua Gio, al contrario Gio, al contrario Wow Gio, al contrario Wow Questo è divertente Gio, al contrario Che bei suoni C'è scritto sogni Perchè? Sogni distrutti Sogni schiacciati Ne ha messo tante qua Oddio Non riesci a sentarle Manco Ma E' la prima volta che vedo una macchina che si ferma Wow Che bei colori Oh Bellissimo Ci ha messo tipo il patatino sopra Si sta Che suono meraviglioso Che suono meraviglioso Il vento Un po' di vento Uh, questo era duro eh C'era sempre congelato Cosa c'era dentro lo slime tipo? Prova una battuta No, i fiori Che beee Ma cos'è? Un'angoria Va colorata fuori tipo Si Mi dispiace un po' per lo spreco di cibo qua Oh Sui chiodi Ma così si rompe no? Oddio Wow Che cosa sono? Sono tipo orbees giganti Le hanno lasciate troppo tempo nell'acqua Le sono aumentate enormi Come fa la ruota a resistere a quei chiodi? Non bucarsi E' perché forse Wow Uh Incredibile Era un palloncino Era un palloncino vuoto Cos'era lo slime? Una checchetta finta Uuuu Ha distrutto il giochino Oh Oddio Ah Tutto il pacco di patatini Mi sta avvenendo fame adesso Cos'era? E' un'angoria L'ha dipinta di rosso Chissà perché la dipinge di rosso O la colora E' un computer 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 Sì, che fido, è piatto di slime anche questo, wow bellissimo come è uscito fuori, fighissimo wow, è un'altra anguria, ma perché è viola questa anguria? C'è lo slime anche dentro l'anguria, come ha fatto a mettergli lo slime dentro l'anguria? Allora ragazzi questa era la compilation, fatemi sapere qual è quello che vi è piaciuto di più, a me mi è piaciuto un sacco quello delle butt bombe, mi piace un sacco il suono che fa, invece quello che mi ha scioccato di più era quello con i chiodi, perché pensavo che si bucasse la gomma della macchina, a te invece? A me è piaciuto, invece piacevano quelli la con gli spaghetti dove c'erano gli spaghetti perché facevano un sacco di rumore, quindi la stugna verde con gli spaghetti, sì, e mi mi ha scioccato invece l'anguria con lo slime dentro, è vero, chissà come ce l'ho messo dentro, voi fateci sapere il timestamp di quello che vi è piaciuto di più e ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video, nuovi video, challenge, video divertenti, cliccate su quello che preferite e buona visione! Ciao! Ciao!